Rientra l'allarme carbonchio per i comuni di Maniace e Randazzo. Dopo i casi sospetti che hanno coinvolto i bovini dei Nebrodi con la morte di 15 mucche tra Bronte e Randazzo, l'ASP di Catania ha attivato una campagna di vaccinazione degli allevamenti a partire dalla sede del Focolaio verso gli altri allevamenti ricadenti nella raggio di 3 km prima e 5 km poi. Abbiamo agito tempestivamente, ha affermato il direttore generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Giammanco, in sinergia con i comuni di Bronte, Maletto, Maniace e Randazzo, l'Istituto Zooprofilattico, i Carabinieri dei NAS e il Corpo Forestale. Sono stati adottati tutti i provvedimenti previsti e necessari a tutela dei cittadini e alla salvaguardia degli allevamenti, continua Giammanco. Abbiamo rassicurato i sindaci dei quattro comuni dell'area che la popolazione non corre alcun rischio. La nostra presenza sul territorio è costante sia per le vaccinazioni sia per l'attività di sorveglianza e prevenzione. I veterinari del distretto di Bronte hanno certificato che tutti i prodotti lattiero caseari provengono da allevamenti esenti dalla malattia. La tutela dei consumatori è inoltre garantita dai sistemi italiani di certificazione e di tracciabilità degli alimenti, modello di riferimento in Europa.